Moriamo. Vi copro. Sento un c4, occhio. Mancano 15 secondi. 10 secondi. Bravo, davvero. C'è un cazzo di c4. Cazzo! Oh, merda! Help, rega. Adesso, fede. Ficchiali! No! Ficchiali! 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 Fino all'ultimo, caccio. Fino all'ultimo. Non ne entriamo dalla porta di prima. Oh, spawn kill. Semio ping. No, poverino. Bonny, dai, pusciamo da sopra. Non vedo qua. E' un poverino. Libro. Dobbino. Controllo scale, vai. Bello, sta arrivando dalla botola. Ok, buonny, questo è nostro. Entriamo dalla botola o da scaletta? Fai la botola, fai la botola, poi entriamo da scaletta. Oh, merda. Mettete safe. Vieni a prendere il mio amico, figlio di puttana. Vieni. Coglione. Let's go, rega. Let's go, rega. Dai, voce... Vai, vai, sul mio ping, vai, bonny, lo stai prendendo, bravo. Oh. Il ping, hola. Gliel'ho messo esattamente sul corpo in movimento. Ciao. Oh. Do you know what Italian do for turk? Lulele. Fru, fru. Fru, fru, fru. Fru. Come on, my friend. Oh. Ho tre colpi. Devo ricaricare. No, 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 te l'ho idiota. Ma l'altro che cazzo fa? Era per te, era dietro di te. Ma no. Cosa? Come sei sbucato qua, bonny? Che tritata gli do. Non mi rodi anche, Dio, porco. Dai, una clipina così, un headshot, per favore. No, c'è un coglione. Eccolo, Fede, dalle scale. Fede, spara lì. Lì. No, no, adesso, 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 adesso. Là, aspetta, ti dico... Aspetta, ti dico se stai sparando bene. Vai, spara. C'è dentro? No, scusa, qui a sinistra. 15 secondi. Anzi, un po' qui a destra. Qui a destra, qui a destra. Ah, fattura. Oh, merda. Questa comunque è che tutti si rivicino, quello giro. Sì. Dov'era? Oh! Oh, l'avevo bucato, hai visto? Ben. Matrix, Dio, cazzo, ha schimato i colpi. Dai, però, dai, 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 dai! Se questa la perdo, Dioca, o se non mi diverto, porco Dio, me ne va dal parchetto. Mi sono giocato il cazzo. Una kill around, pure a scrause. Ok, che giro. Porco Dio, ora gli spacco il culo a tutti. Grazie, dai, ciccio. Ok, adesso ci rinconiamo. La telecamera là in fondo, io non la vedo. È quella. Mi raffredo qui. Guarda, ma che miglioro. Hai preso, ciccio? Tu sei un brutto figlio di puttana, lo sai, vero? Occhio garage. Oh, mio Dio! Nella porta? Pulse, dal mira. Quasi in wallbang. C'era un pochettino. Hai paura? C'è uno sicuro a sinistra. Mando un drone, per favore. Arriva Jäger. Dio boia. Alleati. Sì, ma gli alleati che mi lasciano con sorte di vita? Qua. Mok. Mira al stanza. Sì, sì, l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto. Gli sta facendo pre-fire da non so quanto. Altri lo studo qui. No, no, nel mirino miro. Oh, one tap! Tirami su, ti prego. Balla, balla, mi sto tirando su. No, rega, sono un mostro! Un cazzo di mostro! Vedi, a questo dovrebbe essere un full team. Un cazzo di mostro! Un cazzo di mostro! Un cazzo di mostro! Un cazzo di mostro!